Allora, complimenti per il film perché attraverso un film di genere riesce poi a mettere tutti i significati che all'inizio ha esposto. Volevo fare questa domanda, cioè il nonno, il padre, il figlio che fanno per consigliarsi, il padre con suo sorriso che alla fine non c'è più, il figlio che non compare mai, è il figlio che è superante, che gira e che manda il suo lavoro, la cartolina. Allora, chiedo, a giorni d'oggi, l'unico modo per uscire da questa realtà adesso non preso dal futuro, dal successo, è quello di universalità, uscire e lasciare il fuoco posto.